Allora, vediamo come è fatto un sistema di controllo tipico per un motore in continua. Ripercorriamo le cose principali. Questo è il motore, indicato con la M, poi c'è il carico, meccanico e un tachimetro che rileva la velocità. Quindi questa WM è la velocità attuale del motore come rilevata dal sensore. La variabile di controllo è la velocità angolare desiderata, quindi sta come omega star. E poi per il resto vedete il sistema di controllo è un sistema di controllo classico, cioè un controllore proporzionale integrativo per eliminare la componente di offset nell'impostare la velocità angolare. E poi c'è il convertitore di potenza. Abbiamo già visto insieme un'altra volta, la situazione ideale è quella in cui abbiamo un convertitore di potenza full bridge che ci consente di avere tensione positiva e negativa e corrente positiva e negativa. In modo che possiamo avere il motore in continua che funziona come motore in tutti e due versi di rotazione e come freno generatore di nuovo in tutti e due versi. Il convertitore full bridge, vi ricordate, dà in pratica una tensione in uscita che è un'onda rettangolare a frequenza elevata, tipicamente a frequenza molto più elevata della frequenza di rotazione del numero di giri al secondo del motore e che ha un valore continuo VO medio, indicato qua, che è proporzionale a V control, alla tensione di controllo che è l'uscita del controllore. Vi ricordate cos'è che succede? Internamente, giusto per rimettere insieme un po' degli elementi di informazione che abbiamo visto in modo sparso, c'è un controllo di tipo PWM. Questa tensione V control viene confrontata con un'onda triangolare e l'uscita del comparatore è quindi un'onda rettangolare che è a duty cycle proporzionale a V control. Poi si può fare la modulazione bipolare o unipolare nel full bridge, ma questi sono dettagli che poi se andate a vedere gli appunti specifici trovate. Quello che ci interessa è che la V è proporzionale al V control. Quando il sistema viene chiuso così in reazione, che cosa avviene? Avviene che il motore si porta alla velocità desiderata, omega star, con una velocità che dipende ovviamente dal tempo di risposta del motore. La presenza del controllore integrativo ci garantisce che non ci sia offset, poi il sistema è praticamente un sistema lineare. Ora, da questo meccanismo di controllo esce fuori, perché non è controllato in modo esplicito, la corrente nell'avvolgimento di armatura. Vedete, in pratica noi, per quello che abbiamo disegnato fino a questo momento, non facciamo nessuna verifica sulla corrente nell'avvolgimento di armatura. Quello può essere un problema, perché se la macchina ha un valore massimo della corrente IA, se quel valore viene superato, chiaramente, tipicamente c'è un danneggiamento, un surriscaldamento di alcune zone dell'avvolgimento di armatura, che può portare un danneggiamento del motore. Questo chiaramente può succedere se per qualche motivo il motore non riesce a raggiungere la velocità impostata, perché magari la coppia resistente offerta dal carico è eccessiva. Per come funziona questo meccanismo di controllo, l'integratore rivela in ingresso un errore che non si azzera, quindi l'integratore continua a integrare e spinge, come dire, verso, al massimo la tensione V-Control. Quindi, in generale, in questi sistemi si inserisce un controllo sul valore della corrente, in questo modo, vedete, io già avevo cominciato a farlo, c'è quella gobbetta nella corrente, in pratica si rileva qua la corrente, tipicamente attraverso un'aspira intorno al cavo che porta la corrente, quindi questo è un sensore di corrente, che confronta la corrente con una corrente massima, e quando questo succede, limita la tensione d'uscita. D'accordo? Quindi questo fa dal limitatore della corrente. Chiaramente questo può essere inserito qua, o può essere inserito, lo faccio con puntini puntini, direttamente qua, cioè si può agire su V-Control. In uno dei due punti, se si supera la corrente massima, si abbassa la tensione che viene fornita all'avvolgimento di armatura, in modo da riportare la corrente a un valore accettabile. Tenete presente che, ovviamente, tutta questa parte viene tutta fatta in forma digitale, tipicamente dentro un microcontrollore. in pratica rimane soltanto il full bridge esterno, poi tutto il resto viene fatto in modo... Sì, tutto il resto viene fatto con un pezzo di software. Questo, diciamo... Questo qui è il sensore... la rappresentazione del sensore di corrente. D'accordo. Un'altra possibilità alternativa che di solito consente di ottenere un tempo di risposta più rapido è quello di fare direttamente un controllo in corrente. Vediamolo insieme perché è molto comune e è interessante. Controllo diretto della corrente. Quindi qua, che cosa si fa? Si sfrutta il fatto che, come vi ricordate, la coppia è proporzionale alla corrente. La tensione solo indirettamente, come dire, agisce sulla coppia, però l'aumento della tensione sull'avvolgimento di armatura, come dire, fa aumentare la corrente e che a sua volta fa aumentare la coppia. Però si può fare un controllo direttamente in corrente piuttosto che in tensione. E questo ci consente di non dover fare una verifica a parte della corrente. Dunque, come si fa? Si fa una cosa del genere. Si mette qua un controllore proporzionale integrativo e qui, invece di avere in uscita dal proporzionale integrativo la tensione desiderata, c'è la corrente che è ovviamente proporzionale alla coppia. Poi c'è un altro ciclo interno in cui questa corrente viene confrontata con la corrente attuale. Diciamo, c'è un altro controllore interno. Questo lo facciamo così. Questo è il convertitore e questo va al motore. Mi sono allargato un po', ma, vabbè, immaginate, non c'è spazio. Questo è il motore. Qui prendo la corrente e la riporto in ingresso. Questa è la velocità attuale. Chiaramente vi ricordate che Tm è uguale a Ke F per Ia. Queste due quantità una volta che queste due quantità sono fisse, Tm è proporzionale a Ia. D'accordo, quindi ricapitolando che cosa si fa. Vedete, in pratica in uscita dal primo controllore c'è una grandezza che di fatto impone la corrente e c'è un altro controllo interno che va a verificare istante per istante la corrente e la va a verificare istante per istante la corrente e di conseguenza controlla il convertitore. Come avviene questo controllo? Questo vediamolo un po' perché è interessante. Sono due modi per farlo perché c'è bisogno di illustrarlo in dettaglio perché il power converter se è un full bridge in pratica non può fare altro che modulare un'onda rettangolare. Quindi in questo caso invece di modulare un'onda rettangolare per tenere una tensione uguale alla tensione desiderata la tensione media uguale alla tensione desiderata qui si modula l'onda rettangolare imponendo la corrente che passa in uscita. D'accordo? Com'è che avviene questa cosa? Ci sono due modi per farlo un modo è quello di usare una banda di tolleranza tolerance band oppure l'altra possibilità è quello di fare un controllo a frequenza fissa vediamo come funziona la tolerance band prima se ci siete giro pagina ripeto questo controllore impone la corrente la corrente IA che è questa qua allora la banda di tolleranza funziona in questo modo immaginate questo sia il tempo questa qui sia la corrente desiderata quella proporzionale la coppia che si vuole d'accordo? e rappresentiamo qui per comodità l'uscita del la VO l'uscita del convertitore allora se quando l'uscita è alta siccome carico è induttivo l'uscita va da VD a meno VD giusto? se è bipolare supponiamo sia bipolare allora quando l'uscita è alta siccome il carico è induttivo la corrente nel carico sale a rampa va bene? quindi abbiamo che la IA attuale sale così a rampa la banda di tolleranza vuol dire questo fissare una banda di tolleranza di questo tipo quindi una più o meno delta IA intorno al valore desiderato tale che delta IA è il massimo scostamento che accettiamo dal valore impostato quindi se IA supera la banda di tolleranza superiore a quel punto si fa scattare si fa commutare il convertitore a meno VD se invece a questo punto quando va a meno VD essendo carico conduttivo la corrente comincia a scendere giusto? arriva a la banda di tolleranza inferiore e di nuovo commuta il full bridge a questo punto la corrente sale e così via eccetera quindi l'istante di commutazione è determinato dall'uscita del comparatore in pratica che cosa si fa? si manda la I desiderata questa è la I desiderata IA star e la I attuale la IA che ho disegnato in rosso ha un comparatore con isteresi e in base all'uscita del comparatore con isteresi si fa commutare il full bridge d'accordo? questo garantisce che la corrente attuale non sia mai più distante di delta IA dalla corrente desiderata chiaramente qui bisogna stare attenti a dimensionare opportunamente le cose che comunque vogliamo una frequenza di commutazione molto più alta rispetto al tempo di rotazione chiaramente se voglio cambiare la velocità impostata cambierò la velocità si sposterà IA asterisco e quindi di conseguenza si sposta anche la corrente ok? questo è un meccanismo abbastanza frequente chiaramente la frequenza di commutazione non è fissa perché dipende dalla derivata della corrente IA la quale a sua volta dipende dalla velocità ricordate come è fatto il circuito equivalente è fatto così c'è la forza elettromotrice indotta EA poi c'è una LA un RA e questa è la IA e questa è la tensione VO che viene applicata quindi la pendenza è funzione della questa IA è proporzionale alla velocità quindi è proprio la funzione della velocità quindi approssimativamente giusto per lasciare una traccia scritta a quello che vi dicevo in pratica io ho qua la IA desiderata qui viene la IA che proviene dal sensore queste le invio a un comparatore con isteresi e poi questo va al power converter chiaramente l'isteresi del comparatore sarà due volte delta IA sarà l'isteresi dell'ampiezza totale della banda di tolleranza quindi questo va al motore e questo viene prelevato e confrontato l'altra l'altra opzione invece diversa ci siete l'altra l'altra opzione frequenza fissa invece è più simile alle cose che abbiamo visto finora di fatto quindi controllo a frequenza fissa controllo a frequenza fissa di fatto è più simile alle cose che abbiamo già visto in pratica la corrente che vogliamo viene confrontata con la corrente attuale questo va in un altro convertitore di tipo proporzionale e integrativo e poi in uscita c'è la tensione di controllo che viene confrontata con la tensione dell'onda triangolare mi sembra che l'abbiamo chiamata V3 in un altro caso quindi questo va in un comparatore che poi fa scattare il power converter questa va al motore e poi la corrente viene presa e portata di fatto in pratica rispetto al disegno che avevo fatto la prima volta si aggiunge un ciclo di controllo sulla corrente in pratica è uguale al disegno che avevo fatto qua torno un attimo indietro giusto per farvelo vedere in pratica ho aggiunto rispetto in pratica cos'è che ho aggiunto scusate ve lo segnalo ho aggiunto questo e questo aggiunti rispetto al caso iniziale il caso iniziale è questo qua rispetto a questo caso non metto un limitatore della corrente ma metto un controllo vero e proprio quindi qui prendo la corrente giro e confronto di nuovo aggiungo qua un'altra differenza e un altro controllore ok qui l'unica cosa vi torno alla posizione vediamo un pochino se lo sapete inserire poi qui in pratica qui lo faccio un tratteggio giusto per far vedere dove finisce il resto in pratica qui c'è un altro P e qui c'è la omega e da questa parte c'è la omega desiderata e questo è davvero non ho spazio ma insomma spero che si capisca questa è l'omega attuale e qui si fa la differenza questo è il controllore iniziale d'accordo quindi sono due cicli uno dentro l'altro aspettate il disegno è bruttino cerco di migliorarlo un po' forse posso riuscire a ridurre le dimensioni aspettate fatemi fare così giusto per lo faccio di un altro colore perché fa parte del resto qua c'è il controllore P qui c'è omega desiderato che viene sottratto all'omega attuale questo è il carico e poi qui viene prelevato omega diciamo con un sensore questo è il sensore il tachimetro ecco qui in generale non si mettono due integratori un solo integratore vi ricordate l'integratore dà un problema che nel senso che mi fa peggiorare in margine di fase quindi di solito non se ne mette due tanto per eliminare l'offset me ne basta uno o decido di lasciarlo nel ciclo interno o decido di lasciarlo nel ciclo esterno ok quindi diciamo quelli alternativo o fuori o dentro d'accordo d'accordo ci fermiamo ci fermiamo è un giusto una cosa che ho visto potrebbe essere caso potrebbe essere interessante da raccontare qui su questo aspetto ci sta bene un'osservazione che non ho fatto da snocchiata agli appunti effettivamente può essere carina vedete qui che cosa avete in pratica la corrente attuale nell'avvolgimento di armatura varia questo causa le vibrazioni tipicamente perché la corrente che varia l'avvolgimento di armatura fa variare la coppia che proporziona la corrente e quindi se avete una variazione della coppia di fatto il motore abbiamo detto è una forte inerzia per cui la variazione per cui si comporta come un passabasso anche se date in ingresso una tensione rettangolare sente praticamente soltanto il valore medio il resto viene infiltrato dall'inerzia del motore se c'è una coppia oscillante al primo ordine voi sentite soltanto il valore medio della coppia è d'accordo in realtà al secondo ordine sentite questa variazione della coppia periodica come vibrazione e da qui si capisce anche effettivamente come si può fare per cercare di ridurre le vibrazioni in questo caso banalmente riducendo la delta A la banda di tolleranza si riducono le vibrazioni e nell'altro caso di fatto in questo tipo di controllo invece questa qui è un'onda triangolare chiaramente aumentando la frequenza di questa onda triangolare si aumenta la frequenza di commutazione del convertitore e quindi la corrente varia di meno durante un ciclo per cui si riesce ad ottenere una delta A minore e quindi una minore delta IA minore quindi una minore vibrazione del motore d'accordo io mi fermo qua e così sul motore in continuo abbiamo concluso grazie a tutti